buonasera a tutti e in condivisione il mio schermo si sentiamo e vediamo benissimo grazie grazie a te allora buonasera a tutti i partecipanti io sono l'avvocato pietro de mola e sono managing partner di uno studio associato si chiama lo deal che ha sede a milano e personalmente mi occupo all'interno dello studio di diritto amministrativo perché sono legal manager da esterno di alcune multinazionali che operano soprattutto nell'ambito degli appalti pubblici collaboro con la school management dell'università l'um sempre in questa materia e da diversi anni anche con la schiera con la schiera academy nella quale diciamo porto la mia esperienza di professionista che opera sul campo in questi temi che sono sempre più di attualità e soprattutto quello che affrontiamo stasera riguarda il nuovo codice appalti nuovo codice appalti che come sapete è stato approvato con decreto legislativo 36 2023 il 31 marzo ma è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 13 aprile 2023 per poi essere efficace e a pieno titolo dal primo luglio 2023 infatti dal primo luglio 2023 il nuovo codice appalti ha sostituito il decreto legislativo 50 del 2016 devo dire che per per un verso eh c'è stata una continuità con il vecchio codice cioè riguardo quegli istituti del codice appalti eh previgente che maggiormente avevano funzionato rispetto ad altri istituti che avevano palesato diciamo particolari farraginosità eh avevano rallentato le le procedure comunque avevano conclamato diverse criticità abbiamo avuto una un profondo un significativo discostamento eh sicuramente il nuovo codice eh parte da un riordino un riordino delle fonti perché con il vecchio codice noi avevamo le disposizioni dei regolamenti ministeriali gli articoli del codice le linee guida dell'ANAC ma anche tutta la folta decreta decretazione d'urgenza ed emergenziale eh qui invece in questo nuovo codice abbiamo lo stesso numero di articoli 229 e 36 allegati stop diciamo questo è diciamo questo è il sistema delle fonti di questo nuovo codice appalti quindi da un punto di vista proprio del dettato normativo abbiamo una eh maggiore sintesi eh vedremo poi alla prova dei fatti perché ripeto questo è in vigore soltanto da eh pochi mesi se eh alla prova dei fatti appunto questo tipo di impianto normativo eh funzionerà sicuramente è un impianto normativo che poggia su eh quattro aspetti su quattro cardini importanti il primo è sicuramente la semplificazione la seconda è l'obiettivo di accelerazione della delle procedure il terzo aspetto sul quale questo codice nuovo codice appalti poggia è sicuramente il sistema della digitalizzazione e eh dell'interoperabilità interconnessione di tutti i dataset e quindi di tutti i dati che eh riguardano il mondo degli appalti quindi i sistemi in uso presso la pubblica amministrazione quelli degli operatori economici privati eh come a creare un un ecosistema nazionale digitale legato al mondo del dell'e-procurement e quindi tutto il processo di appalto è un processo digitalizzato non solo con riferimento non solo e non tanto con riferimento alla fase di presentazione delle offerte di di pubblicazione ma anche la stessa fase di istruttoria e fino anche la fase di esecuzione contrattuale quindi tutta tutto il procedimento eh di gara inteso proprio dall'inizio della fase eh di pubblicazione della gara fino al collaudo del dei lavori ad esempio oppure al completamento della fase di di forniture oppure il completamento di un contratto di servizi viene eh diciamo attraversata permeata all'interno di un sistema di digitalizzazione che diciamo poi eh sarà è dal primo eh gennaio duemila ventiquattro un sistema full cioè eh prenderà il posto eh appunto dei dei vecchi sistemi e sarà un procedimento interamente digitalizzato il quarto cardine sul quale il nuovo codice poggia è sicuramente eh quello della tutela della libertà di accesso delle imprese ma anche eh appunto la tutela dei dei lavoratori e della corretta osservanza del contratto collettivo nazionale di riferimento per quanto riguarda l'applicazione appunto dei tetti salariali eccetera ehm sicuramente eh viene ad aumentare il rapporto e ruolo del concetto di discrezionalità amministrativa del pubblico eh diciamo operatore e quindi del soggetto che della pubblica amministrazione si occupa di procurement si occupa di acquisti eh la discrezionalità è aumentata è aumentata in perché è cambiato e su questo abbiamo un significativo discostamento rispetto al codice eh precedente e è cambiato il diciamo l'interesse pubblico e l'interesse del procedimento eh di gara eh che non è più eh solo favorire un pieno processo concorrenziale eh la concorrenza la trasparenza e la legalità sono fanno da cornice fanno da base affinché si possa raggiungere il miglior risultato possibile il miglior risultato possibile appunto quindi l'interesse pubblico preeminente ora è costituito dall'acquisizione di di quel bene e quindi attraverso un contatto di fornitura di quei servizi o la realizzazione di un'opera nel modo più veloce possibile con riguardo non solo alla fase di esecuzione eh alla alla fase di preparazione e istruttore della gara ma anche alla fase di esecuzione contrattuale e soprattutto al miglior rapporto qualità prezzo quindi l'operatore della pubblica amministrazione che opera nel campo del procurement eh diciamo è come dire caratterizzato da eh un concetto di accountability è un concetto che è quello della responsabilizzazione che abbiamo visto eh sicuramente in ambito privatistico il manager delle grandi aziende deve muoversi su un piano di accountability oggi invece l'accontability riguarda soprattutto il eh l'operatore della pubblica amministrazione che si ritrova appunto a far fronte a questo delicato processo che è l'acquisizione di beni e forniture e soprattutto eh colui che deve regolamentare tutto il il progetto di gara anche la stessa dizione di RUP che era responsabile unico del procedimento è stata cambiata in responsabile unico di progetto cioè è una responsabilità che va a trecentosessanta gradi ma soprattutto a livello di macrofasi abbarcia tutte le macrofasi dell'appalto che appunto in precedenza ho delineato eh sicuramente è un codice che eh viene elaborato viene approvato con diciamo anche grande velocità non ha un periodo di gestazione eh breve eh lungo ha un periodo di di gestazione breve e questo lo si deve perché questo codice viene varato all'indomani di di un'emergenza mondiale che è stata quella del covid e all'indomani del covid quindi della pandemia che ha imperversato a livello mondiale abbiamo avuto e che ha soprattutto eh attaccato alle fondamenta del sistema sociale ed economico sanitario soprattutto l'antico continente l'Unione Europea eh da parte della stessa eh c'è stato un intervento uno shock al sistema mediante l'immissione di a livello proprio sistemico comunitario di settecentocinquanta miliardi di euro all'interno di un programma eh chiamato Next Gen Europa all'interno di questo di questo vasto programma di finanziamenti ogni paese membro ha eh elaborato un proprio piano di interventi progettuali quello dell'Italia sappiamo tutti si chiama piano nazionale di ripresa e resilienza e ha previsto sei missioni collegate a eh diversi di diversi tipi di progettualità eh sicuramente eh le più importanti in materia di digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale e l'Italia ha beneficiato di sessantanove quasi sessantanove miliardi di euro a fondo perduto centoventidue miliardi in prestiti ai quali ha aggiunto con risorse internazionali trenta miliardi per il piano nazionale di eh complementarietà che riguarda appunto tutte le riforme strutturali e abilitanti che hanno così permesso al sistema di meglio amplificare appunto gli effetti di eh questi investimenti progettuali del PNRR e tra i temi eh che l'Italia si è posta appunto per meglio allocare eh le procedure del PNRR, gli investimenti, le progettualità del PNRR e ehm soprattutto un diciamo un un tema, un tema è costituito dalle da tre grandi riforme strutturali, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia, la riforma del codice appalti. Ecco perché all'indomani del varo del PNRR noi abbiamo eh una eh riforma del codice appalti eh che appunto vede come obiettivi l'obiettivo di portare avanti le progettualità, di rispettare il cronoprogramma, perché il PNRR è un programma di investimenti straordinario eh strutturale come non ce n'erano dal dal dopoguerra in poi si può dire eh ed è un programma che se ben gestito avrà effetti in ogni ambito e basti guardare le sue missioni eh del del PNRR e come abbracciano ogni aspetto diciamo della vita economica e sociale del paese. Però per far questo chiaramente accanto ad una pubblica amministrazione efficiente come il personale all'altezza della situazione e all'altezza di queste sfide ripeto tutte e questo devo dire che è un fatto assolutamente nuovo per la pubblica amministrazione italiana ehm con sempre una cornice di cronoprogramma perché il cronoprogramma la fa da padrone e quindi per rispettare queste scadenze perché appunto questi ingenti finanziamenti eh in parte abbiamo visto a fondo perduto da parte dell'Unione Europea arrivano stati di avanzamento e quindi solo se c'è il rispetto di questi cronoprogramma che riguarda la presentazione dei progetti la presentazione delle gare l'istruttoria delle gare l'esecuzione dei contratti di affidamento successivi alle gare d'appalto per questo per questo il nuovo codice di appalti deve essere un codice eh adeguato e strutturato a queste esigenze l'esigenza del fare non che il precedente non lo fosse ci mancherebbe altro ma eh poneva come interesse preminente l'interesse alla concorrenza qui la concorrenza così come la trasparenza la legalità hanno una funzione strumentale ma è importante a livello proprio di eh centralità del dell'obiettivo quello di rispettare il cronoprogramma acquisire eh i servizi le forniture realizzare le opere quindi applicare in maniera non traumatica eh tutto diciamo l'impianto progettuale del PNRR per far questo il nuovo codice appalti non può che porsi eh degli obiettivi di trasparenza efficienza eh uno sguardo importante al sistema dell'innovazione e della sostenibilità ma due aspetti eh sono eh secondo me pregnanti su tutti sicuramente una semplificazione estrema delle procedure quindi una ricerca verso anche eh un dialogo con gli operatori ma anche la pubblica amministrazione che si fa stessa manager nelle nell'avanzare con questo tipo di eh progettualità e quindi dispone eh le indagini di mercato, le avvisi di manifestazione di interesse, una pubblica amministrazione che vuole capire prima di acquistare e quindi eh la procedura di gara è una è un progetto di gara abbiamo visto prima che parte dall'analisi dei fabbisogni, queste analisi dei fabbisogni vengono trasfusi in un progetto di gara perché sappiamo che ci sono tantissime procedure di gara, procedura aperta, la procedura ristretta, le procedure, diverse procedure negoziate e con questo noi riusciamo poi a eh ad arrivare a un'istruttoria di gara che deve essere sì eh come dire mh legittima ovviamente deve essere rispettosa eh e eh soprattutto attenta alle all'analisi delle offerte ma eh deve avere un un termine garantito, un termine garantito e così come l'esecuzione contrattuale. Quindi due aspetti poi da questa estrema semplificazione trovano risalto, trovano ampio risalto. Abbiamo detto la digitalizzazione delle procedure, sicuramente la digitalizzazione di una procedura in tutte le sue fasi, assicura eh trasparenza, previene sicuramente fenomeni di corruzione e permette l'accesso alle aziende ma anche un rafforzamento dei controlli perché c'è più discrezionalità da parte dell'operatore della pubblica amministrazione e quindi egli da un lato esercita questa discrezionalità abbiamo visto con tanta accountability ma deve anche eh monitorare tutte tutta la fase esecutiva perché poi alla fine io posso aver progettato una gara in poco tempo in maniera congrua, posso aver istruito una gara e affidato eh in un tempo ragionevole ma se poi eh chiaramente l'esecuzione contrattuale è deficitaria, è rallentata, è piena di criticità, di sospensioni eccetera eccetera vuol dire che magari tutto quello che avevo fatto prima era corretto ma poi non ho impiegato dei poteri di monitoraggio e di controllo eh come dire corretti. E quindi fatta diciamo questa premessa sul nuovo codice appalti vediamo e oggi affrontiamo come tema uno degli aspetti di maggiore eh discontinuità rispetto al vecchio codice appalti il fatto che questo nuovo codice appalti inizia con la trattazione dei principi generali. I principi generali cosa sono per questo codice appalti? Sono sicuramente i fattori chiave di interpretazione non solo e non tanto delle disposizioni del codice appalti stesso ma anche di tutta l'azione amministrativa perché sono dei principi che sono regole a pieno titolo e riguardano tre principi generali il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato ma anche dei principi ancillari o strumentali, principi che sono quindi di applicazione di questi tre principi generali che sono i principi carbine e dopo la trattazione dei principi abbiamo la trattazione dei principi dell'e-procurement, i cosiddetti principi digitali non trovano ingresso riguardo dei principi ma anche ma secondo la dottrina anche queste disposizioni in materia di e-procurement sono dei principi, i cosiddetti appunto principi digitali e ha un ruolo chiave l'articolo 4 del nuovo codice appalti, articolo che è di un rigo e che ho riportato le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 e soprattutto viene chiarito che la progressione determina anche una gerarchia fra questi principi quindi il principio del risultato è preminente rispetto al principio della fiducia e il principio della nel dettaglio questi eh principi generali e i principi ancilari o strumentali partiamo quindi dal principio più importante lasciatelo passare è il principio del risultato perché nel principio del risultato che cosa ci dice? Ci dice che per la pubblica amministrazione è importante acquisire il bene oggetto del procedimento di gara che può essere la realizzazione di un opera, l'acquisizione di un servizio, la fornitura di un bene. Questo è l'aspetto più importante ma come? Nel più breve tempo possibile e nel miglior rapporto qualità prezzo quindi se io ho acquisito cioè sono arrivato alla fine della procedura di gara che non è l'aggiudicazione ma è il collaudo e quindi è la parte finale quando la pubblica amministrazione rilascia all'operatore economico il certificato di regolare esecuzione. Lì è finito un appalto e l'appalto non inizia con la pubblicazione di una procedura di gara. L'appalto inizia con l'analisi dei fabbisogni che fa il primario del laboratorio che dà poi al direttore amministrativo che scrive le regole della gara e le dà al RUP che poi va ad amministrare tutto il progetto di gara eccetera 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 eccetera. In questo nuovo codice abbiamo detto che RUP interviene ex ante già nella fase dell'analisi dei fabbisogni rispetto all'esempio che ho fatto e quindi voi mi direte se il l'interesse preminente della pubblica amministrazione è il risultato inteso come l'acquisizione del bene al miglior rapporto qualità prezzo è nel tempo più veloce quindi vedete torna sempre il discorso dell'accelerazione figlio del PNRR perché questo codice appalti è figlio del PNRR ed è figlio di una situazione storico economica e sociale italiana complessa perché l'Italia viene da due anni come come l'alternazione da due anni di pandemia e si trova a un bivio quindi modernizzarsi innovarsi crescere oppure appunto andare in un barato in un barato da un punto di vista del mancato sviluppo e quindi questo principio del risultato non significa che in luogo del principio di risultato noi non dobbiamo eh rispettare i principi della trasparenza della concorrenza delle legalità così come li abbiamo imparati con le direttive eh comunitarie del duemilaquattordici le la ventitré la ventiquattro e la venticinque quelle che hanno ispirato il vecchio codice appalti sono sempre attuali sono sempre attendibili però si pongono in un rapporto di strumentalità rispetto a questo principio cardine che è quello del risultato e badate bene questo risultato chi lo deve eh come dire chi lo deve pianificare chi lo deve ipotizzare lo deve pianificare ipotizzare il manager della pubblica amministrazione quindi non è più operatore ma è manager perché deve guardare al risultato che poi quel risultato avrà effetti sulla pubblica amministra nella pubblica amministrazione in cui lui opera e quindi andrà a vantaggio di tutta la collettività e quindi l'operatore della pubblica amministrazione in quel frangente opera da manager ecco perché il concetto di accountability e quindi deve individuare ex ante il miglior risultato possibile sulla scorta appunto di quello che abbiamo visto essere il risultato andiamo poi nel principio della fiducia per uno per un manager della pubblica amministrazione che deve essere come dire decisore che deve poter vagliare delle ipotesi e stabilire dei risultati e anche scegliere quello che è il mezzo migliore per raggiungere quel risultato l'offerta migliore e deve anche progettare il tipo di contratto di esecuzione più confacente a quella gara e a quella fornitura e a quella realizzazione chiaramente non può che collegarsi a tutta questa discrezionalità un principio della fiducia il principio della fiducia all'obiettivo di rimuovere di risolvere definitivamente il problema cosiddetto della paura della firma da parte dell'operatore della pubblica amministrazione la cosiddetta burocrazia difensiva quella che porta ai noi e ai loro anche gli operatori della pubblica amministrazione a volte a irrigidirsi a non andare avanti a tentennare rispetto allo sviluppo di gare e di altre iniziative e così in base al principio di fiducia il sistema vuole tutelare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e soprattutto la loro iniziativa abbiamo avuto di recente una pronuncia del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha detto successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo di bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi ma le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente anche le deroghe quindi abbiamo i bandi tipo dell'ANAC sì ma in base anche al principio del risultato e quindi poi della fiducia all'operatore della pubblica amministrazione può derogare anche a quei bandi tipo e viene qui e viene qui dicevo il concetto della colpa grave il nuovo concetto di colpa grave che si ricollega a questo principio della fiducia laddove costituisce colpa grave che quella che l'operatore della pubblica amministrazione deve risarcire solo la violazione di norme di diritto e di auto vincoli amministrativi che egli conosce benissimo la palese palese violazione di regole di prudenza perizia e dirigenza e l'omissione delle cautele verifiche di informazioni preventive richieste nell'attività amministrativa ovviamente in quanto esigibili non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti il che significa che egli deve operare con fiducia perché ha la possibilità di derogare addirittura a indirizzi giurisprudenziali prevalenti ma anche a dei pareri delle autorità competenti che chiaramente si sono espressi su una casistica pregressa su un codice pregresso su un momento socio storico pregresso quindi non andiamo a come dire a limitare anche la creatività della pubblica amministrazione questo nuovo codice la vuole incentivare la vuole incentivare vuole incentivare la discrezionalità vuole sicuramente che però in questo in questa discrezionalità l'operatore della pubblica amministrazione si senta sereno sereno di poter agire per questo sono previste anche la copertura assicurativa per i RUP per coloro che sono parte e attori del procedimento di acquisto ma anche dei piani di formazione continuativi e questo è molto importante il terzo principio è il principio dell'accesso al mercato abbiamo parlato della pubblica amministrazione in generale col principio del risultato e ripeto quando parliamo di pubblica amministrazione in generale non possiamo che riferirci anche agli interessi della collettività perché se un ospedale funziona i beneficiari siamo innanzitutto noi cittadini che usufruiamo delle strutture dopodiché col principio della fiducia abbiamo espresso un focus sul tema dell'operatore questo manager della pubblica amministrazione ora parliamo chiaramente lato aziende e quindi l'obiettivo è favorire il più ampio accesso al mercato da parte degli operatori economici sicuramente non andando a ingessare le cause le cause di esclusione ma le cause esclusione devono essere tassative non possiamo crearle non possiamo in base al momento storico in base a un decreto d'urgenza le cause le tassatività delle cause di esclusione è un principio consolidato anche a livello comunitario che è previsto dal nostro codice che deve essere osservato in sede di gara così come i requisiti di accesso alla gara non devono essere sproporzionati rispetto al valore di quella gara o ai contenuti prestazionali di quella gara devono essere adeguati così come ci sono altri aspetti io cito in questa slide delle consultazioni preliminari di mercato che sono quelle procedure in cui la pubblica amministrazione prima ancora di pubblicare una procedura di gara e quando ancora la sta progettando apre al mercato si confronta con gli operatori affinché diano degli spunti dei suggerimenti su come meglio articolare quel servizio di modo che la gara venga fuori già con dei parametri di adeguatezza di razionalizzazione rispetto alle offerte potenziali del mercato e questo è importante è come dire eh c'è in tram pieno quell'obiettivo di sussiderità orizzontale previsto nella nostra costituzione ma penso anche alla facilitazione eh della norma sul subappalto oppure del self cleaning quando appunto c'è la sostituzione l'autosostituzione degli amministratori quando c'è stato un problema perché un amministratore eh rientra in quelle cause di di esclusione un'azienda lo può sostituire e quindi può comunque accedere al mercato quindi vediamo un sistema che va a facilitare l'accesso al mercato delle aziende perché ad esempio la norma sul subappalto se io come era prima la rendo troppo farraginosa le piccole aziende non riusciranno mai a presentare un'offerta di gara e quindi l'unico modo per maturare dei requisiti è essere subappaltatori ufficiali di un operatore economico privato che ha presentato un'offerta ma se io vado a limitare il subappalto quella piccola azienda nel mercato degli appalti pubblici non entrerà mai e avremo queste problematiche derivante dal da queste sub forniture o meglio da questi subappalti mascherati da sub forniture per cui apparentemente queste aziende lavoreranno ma apparente ma in realtà formalmente giuridicamente non le vedremo e quindi questo determina poi casi gravi come abbiamo visto gli incidenti sul lavoro eccetera quando è tutto regolarizzato è più facile monitorarlo e quindi un'azienda si struttura maggiormente se va lì in quell'appalto ad acquisire un requisito che poi gli tornerà utile e quindi tutto questo rientra nel principio dell'accesso al mercato parliamo poi di questi principi strumentali che sono collegati a uno o più degli anzidetti principi generali e sono diversi sono diversi tra loro passiamo diciamo a denuclearli sicuramente abbiamo il principio di buona fede e di tutela dell'affidamento che è un principio come dire misto tra il principio generale di fiducia e quello dell'accesso al mercato dove il nostro legislatore con questo principio auspica che sussista un po' diciamo un una nuova stagione di dialogo costruttivo operativo funzionale tra parte pubblica e parte privata su un terreno di trasparenza e di neutralità non certo dando luogo a fenomeni corruttivi ma che comunque possa permettere alla parte privata anche di come dire avere nella parte pubblica un supporto non non solamente una controparte perché l'obiettivo qual è il risultato e come vedete quindi abbiamo tutte e tre principi generali qui il risultato qual è arrivare alla consegna dell'opera poi abbiamo il principio di solidarietà e solidarietà orizzontale che è un principio come dire che richiama temi costituzionalmente garantiti che richiama aspetti che riguardano la solidarietà eh sociale e quindi riguardano sicuramente la collettività in termini di efficacia efficienza qualità di servizi però nell'ambito appunto di quello che si diceva prima della sussidiarietà orizzontale laddove parte pubblica e parte privata come fosse un partenariato pubblico privato ma che va a differenza del ppp al di là del mero scambio utilitaristico e vede una convergenza contrattuale in cui parte pubblica e parte privata non vanno a instaurare un rapporto sinalagmatico di tot des ma si mettono insieme le rispettive esperienze le rispettive strutture per progettare e gestire ad esempio con delle società pubblico private la gestione comune di servizi e di interventi diretti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva di coesione di protezione sociale quindi eh è il legislatore che all'interno di questi principi che hanno ad oggetto sostanzialmente aspetti della vita economica si giustamente siccome fanno parte anche gli enti del terzo settore quindi gli enti eh le onlus le associazioni di volontariato eh le cooperative eh sociali anche questo mondo del lavoro fa parte eh della vita economica e quindi anche questo è regolato dal codice appalti allorquando queste organizzazioni si interfacciano con la pubblica amministrazione e quindi il legislatore all'interno di questi principi dice ricordatevi che c'è anche questa facoltà cioè in base al principio del risultato e dell'accesso del mercato e della fiducia tornano tutti e tre anche in questo caso la pubblica amministrazione può anche decidere in autonomia e quindi qua rientra appieno il principio della fiducia di non fare una gara competitiva ma individuare sulla scorta di mercato un partner nel terzo settore per la gestione di questi servizi è chiaro che la condizione è che quel partner sia veramente un partner in grado di eh raggiungere eh quelle finalità sociali e questo è importante e quindi magari la selezione avviene sulla strutturazione sulla progettualità però per dare luogo a qualcosa di diverso quindi privo di rapporti sinallagmatici che va va al di là un partenariato che va al di là del mero scambio utilitaristico il principio di auto organizzazione amministrativa questo sicuramente riguarda il principio del risultato sicuramente riguarda il principio della fiducia quindi il manager della pubblica amministrazione come dire acquisito acquisita questa fiducia può progettare la gara che è quindi il progetto di acquisto che è più confacente con il fabbisogno e quindi per far questo deve anche prima di tutto decidere in autonomia questa è l'auto organizzazione amministrativa se avvalersi del sistema dell'autoproduzione quindi farlo in house oppure se affidarlo a terzi con un appalto classico oppure con un partenariato pubblico privato e anche il futuro contratto che tipo di clausole deve prevedere se ad esempio deve prevedere degli step di monitoraggio non li deve prevedere si deve prevedere dei premi di accelerazione perché questo è previsto in materia di lavori con il nuovo codice appalti si deve prevedere delle penali che vengono conformate in determinato momento nella causazione di determinati eventi se deve fare una gara integrata lavori servizi e forniture partendo dalla progettazione perché con questo nuovo codice è stato ripristinato l'appalto integrato progettazione lavori oppure deve fare tutto questo in via disgiunta e su questo principio di auto organizzazione amministrativa nessun operatore economico privato può fare come dire ricorso dice no perché la gara è progettata male no perché se io pubblico amministrazione ho individuato correttamente quello che è il risultato che a cui devo raggiungere se ho motivato correttamente il mio fabbisogno non c'è assolutamente alcun problema e non c'è assolutamente alcun spazio per rivendicazioni da parte degli operatori economici privati perché io appunto mi sono come dire organizzato a seconda del risultato che dovevo raggiungere e sono tutelato dal principio della fiducia abbiamo visto come viene riformato anche il concetto di colpa grave il principio di autonomia contrattuale articolo 8 è un principio collegato a quello dell'autorizzazione perché è un di cui il contratto rispetto a quello che vado a progettare la cosa però importante è che pienamente collegato a una disposizione del codice civile quindi torna ancora il regime privatistico la contabiliti il cronoprogramma acquisiscono importanza qual è questo articolo il 1322 del codice civile che dicono le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative cosa cambia in questo caso che qui non c'è un negoziato su quello che il contratto come dire di appalto sulle clausole del contratto appalto sono le pubbliche amministrazioni che però hanno autonomia contrattuale si ricollega a questa autonomia contrattuale la possibilità abbiamo visto nella esplicazione del principio di fiducia di poter derogare addirittura ai bandi tipo dell'anac e quindi a questo si ricollega il principio dell'autonomia contrattuale un principio che secondo me è importantissimo è il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e questo è tutto risultato certo c'è anche un po di fiducia come abbiamo visto c'è sempre un po di tutto in questi principi strumentali un po di tutto rispetto ai tre però qui abbiamo il principio di risultato cioè se per salvaguardare il principio del risultato ci sono e quindi l'obiettivo che la fornitura celere al giusto rapporto qualità prezzo io devo andare a rinegoziare io pubblica amministrazione il contratto stesso il corrispettivo le condizioni perché per ragioni imprevedibili che io stesso pubblica amministrazione non solo l'operatore economico privato non aveva previsto sono qui a dover rideterminare le condizioni del contratto lo devo fare e senza indugio e senza paura senza indugio e senza paura perché se gli oneri se i maggiori oneri l'eccessiva onerosità colpisce l'appaltatore questi sicuramente non mi porterà a non mi porterà a compimento l'appalto e quindi il risultato non l'avrò raggiunto e questo è anche un principio che si collega al diritto privato dove nell'ambito della loro autonomia convenzionale le parti possono anche decidere di modificare il contratto se voi sapete meglio di me sapete benissimo che nei contratti c'è sempre un'ultima clausola che dice che il presente contratto è modificabile per iscritto tra le parti in corso d'opera è possibile chiaramente non sempre ci devono essere delle ragioni oggettive di imprevedibilità di onerosità ma tutto questo deve essere come dire deve dare questo principio dall'operatore della pubblica amministrazione la libertà di poterlo fare la facoltà di poterlo fare mi riferisco ad esempio a due istituti a due istituti cardini del codice appalti che sono la revisione prezzi e le modifiche contratti oggi a livello sistemico c'è un problema sull'approvvigionamento delle materie prime che alcune volte danno dei ritardi quindi bisogna spostare il cronoprogramma e perché è oggettivo questo ritardo alcune volte invece abbiamo problemi legati all'inalzamento dei costi in base alle guerre in base a fattori ciclici in base a questioni come dire di forza maggiore talvolta che non per forza di cose devono ricadere in pregiudizio della parte privata e quindi si dà all'operatore della pubblica amministrazione la possibilità di intervenire per salvaguardare l'equilibrio contrattuale e quindi salvaguardare che cosa salvaguardare il l'obiettivo di gara che il risultato fermo restando che non è che viene meno concorrenza trasparenza e legalità ma sono la base non sono più al centro dell'interesse pubblico e dell'azione amministrativa in materia di gara il principio di tassatività delle cause di inclusione lo abbiamo già affrontato e quindi questo si ricollega fortemente al principio dell'accesso al mercato il terzo principio generale passiamo in rassegna l'ultimo dei principi anche se ripeto certa certa dottrina anche detto che dopo di questi c'è il principio digitale non la creazione di questo di questa piattaforma di procurement che mette in condivisione i dati di tutte le pubbliche amministrazioni di tutti gli operatori economici privati che quindi si sono iscritti e hanno caricato all'interno i propri requisiti eccetera immaginate le gare di una volta quando c'era tutto il cartaceo bisognava scartabellare controllare verificare il RUP si doveva leggere tutto e poi c'erano incidenti probatori bisognava capire se un documento era falso se mancava se poteva se poteva essere prodotto se serviva non serviva se un'azienda aveva requisiti oggi invece col sistema di procurement che governa tutto il processo delle gare il RUP va nell'anagrafica dell'azienda e controlla se è stata sottoposta delle penali in precedenti appalti se è stata eh si è subito delle risoluzioni contrattuali quali sono i requisiti se hai il bilancio in regola eccetera 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 fino anche le disposizioni in materia di eh versamenti eh regolari in materia chiaramente in materia contributiva e in materia anche fiscale e quindi tutto questo è all'interno di un sistema di digitalizzazione che ripeto per la dottrina è un ulteriore principio l'ultimo principio che riguardiamo è quello dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali per inadempienze contributive e ritardo dei pagamenti un'azienda che eh non applica il corretto contratto collettivo nazionale già nello scorso codice apparti non poteva eh firmare un contratto di appalto e quindi se l'offerta che aveva presentato non era adeguata rispetto alla corretta applicazione di questo del contratto collettivo nazionale non poteva andare avanti e quindi sebbene fosse risultata aggiudicataria non arrivava alla firma del contratto e quindi era aggiudicataria ma non affidataria ora con questo principio e questo nuovo codice già la stazione appaltante per non creare disparità fra gli stessi operatori che chi applica un contratto collettivo chi ne applica un altro magari per lo stesso servizio e quindi si crea una disparità al processo di concorrenza perché io applico un prezzo il mio avversario ne applica un altro e quindi oggi anche per ripristinare e quindi come vedete c'è sempre il processo concorrenziale come obiettivo per ripristinare questa anomalia la stessa stazione appaltante va ad indicare qual è il contratto collettivo nazionale che va osservato però per tutelare la libertà di imprese di iniziative economica articolo quarantuno della costituzione quindi altro diritto sacro santo essendo costituzionale si prevede la possibilità che l'operatore economico continui a praticare nei confronti dei propri e ad attuare ad applicare nei confronti dei propri dipendenti il contratto collettivo nazionale che magari non è quello individuato della stazione appaltante purché assicuri nell'ambito di quell'appalto un sistema di tutele non inferiore al contratto collettivo nazionale ripeto indicato a bando dalla stazione appaltante e questo mi sembra un fatto di grande civiltà ecco perché ho detto in apertura che questo nuovo codice appalti tra i tra i principi cardine o meglio tra gli assetti cardine perché i principi sono quelli che abbiamo visto c'è semplificazione c'è accelerazione delle procedure c'è digitalizzazione ma c'è anche tutela delle imprese e dei lavoratori tant'è che viene pure previsto che ai lavoratori in subappalto devono essere assicurate le stesse tutele dei lavoratori dell'azienda che dà il subappalto ecco con questa carrellata io ho terminato spero di aver rispettato i tempi spero di essere stato chiaro vi ringrazio molto per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti